Ragazzi video molto breve per commentare la notizia di oggi A seguito della partita di ieri L'infortunio è stato valutato stanotte Stamattina l'esame è Villa Stewart E pare che si deve operare Alla fine pare che si deve operare Più grave di quello che si pensava ieri sera Non si sa neanche i tempi di recupero Ragazzi sta lì Non so se uscirà neanche un comunicato So che stamattina stava a Villa Stewart a fare esami E credo che già in giornata ci possa essere l'operazione Ovviamente avete capito tutti che sto parlando di Di Francesco Che ha dato un cazzotto alla macchina al terzo collo Che si deve operare alla mano Per quanto riguarda invece Florenzi Sono escluse operazioni È un trauma distrattivo E dovrebbe recuperare abbastanza in fretta Ma aspettiamo anche qui comunicazioni ragazzi Ciao da ti e ciao a tutti i venti